Allora stiamo raccogliendo delle firme per la Liberatoria, ognuno di noi che vuole, abbraccio un albero, viene fotografato e questa fotografia viene diffusa a breve a Liberatoria, quindi chi vuole farti fotografare i liberati? Sembra una tuda. La gente non diciamo di essere qua oggi perché sono passate esattamente tre settimane dalla prima presenza della prima assemblea cittadina che abbiamo fatto qua due o tre settimane fa, eravamo dall'altra parte della strada e abbiamo percorso il tratto di via Gabbiano fino all'ex parcheggio dove c'è un piccolo giardino che la giornata già i tre flat mi sono stati tagliati. Quindi insomma, da due o tre settimane sono successe, come penso tutti noi sappiamo, molte cose, abbiamo attraversato gli uffici comunali, il consiglio comunale, ci sono stati diversi incontri con i consiglieri di maggioranza, di minoranza, il presidente del consiglio comunale Luca Zanotto, abbiamo chiesto un incontro al sindaco attraverso una conferenza stampa, mi hanno chiesto un incontro al sindaco, personalmente il sindaco non ci ha risposto ma sostanzialmente che ha delegato Corsi, l'assessore Corsi ad incontrarci. C'è stato quindi un incontro con Corsi, poi chi c'è stato questo incontro può raccontarne in dettaglio un po' l'esperienza ma anche così in mano sia stata. L'assessore Corsi non ha sostanzialmente lasciato parlare, ha tirato dritto, naturalmente con questo progetto appunto di abbattere questi tratani, quelli lì dall'altra parte della strada, di questo incrocio e poi i tre che sono già stati abbattuti ed altri al di là dell'incrocio con Corso Milano. Quindi siamo sostanzialmente l'incontro con l'assessore Corsi non ha dato alcun risultato. Poi c'è stato un altro incontro con Luca Zanotte della Lega Nord, Presidente del Consiglio Comunale e l'Ingegnere Casoni che è dirigente del Comune che seguono i pubblici. Lì c'è stata qualche apertura a parole rispetto all'ipendosi di sospendere i lavori, di vedere i lavori, di discutere un'azienda che ha vinto l'appalto, diciamo, il tipo di intervento, però fino ad oggi non abbiamo ottenuto risposta. Quindi diciamo, non è una valutazione se era il caso o meno di trovarsi qui, quindi asserà. Abbiamo pensato di tornare alle origini dopo tre settimane e tornare, diciamo, a questo numero del delitto avesse più senso. Per salvare questi piatti, non per aprire ragionamento anche cittadino rispetto a questo intervento, ma tanti altri interventi. qualcuno ci ha criticato perché ha detto, voi, vi deve salvare solo i platani di Via Galliano, poi ci sono tante altre situazioni. No, noi non vogliamo salvare solo questi platani qua, però da qualche punto bisogna partire. E questo era un'emergenza, siamo partiti da qua, però chiaramente con una rete che già esistiva, Verona in Alperata e tantissimi altri movimenti che ci sono in città, si sta costruendo una relazione molto interessante per attivare ragionamento cittadino su questo tipo di problemi, perché chiaramente questo è solo uno dei tanti casi di abbattimento di alber, di cementificazione e di scopri del bene comune. Quindi l'idea di oggi è che a questo punto, diciamo, di rinnovare in modo deciso la nostra intenzione a difendere questi platani in modo concreto, in modo pragmatico, però allo stesso tempo anche voi di aprire una discussione a livello cittadino su tutte quelle situazioni tante, piccole, più o meno conosciute, che ci sono di questo tipo. Questa, diciamo, mobilitazione ha avuto la capacità di in qualche modo far parlare, di aprire una discussione anche sui giornali rispetto a questo fatto e tagliare questi alberi. Questo deve accadere anche per le tante altre, diciamo, istanze, per le tante altre situazioni simili che ci sono in città. Mi permette di fare un invito, voi tutti sapete che io collaboro con Radio Popolare, ci sarà la festa il prossimo fine settimana, sabato, e l'incontro sarà dedicato ai platani, a tutti gli altri comitati che si occupano di queste cose. E quindi l'invito è per proseguire alle 19, scusate, alle 19 sabato, 5 luglio, per proseguire questo percorso, perché altrimenti il rischio è quello che ci troviamo ogni volta, diciamo, e poi bisogna ogni volta ripartire dal zero, alla Croce Bianca, in fondo verso Milano. Però appunto, l'uomo dei tanti appuntamenti che possiamo darci per portare avanti questo percorso, per imprecciare tutte queste lette piccole, che da piccoli non danno i risultati, ma se ci sentiamo insieme riusciamo per tempo a bloccare queste cose. Siamo Martina, io guardo Martina, ecco, magari Martina che abita qua, assieme a Martina è residente e a tante altre persone, ci siamo emozzi in queste settimane, quindi insomma, se vuoi anche tu spiegare e raccontare anche tutto, com'è andata, ecco. Ciao a tutti, ma un po' ci conosciamo, non hai perché? Io ci sono arrivato abbastanza a voce, a livello, a livello, beh, anche poi di tutta la città, tramite Facebook e tante altre vie. Cosa possiamo dire? Confermo sicuramente quello che ha già espresso Enrico, gli incontri sono stati veramente tantissimi, io ho partecipato a tutti i nostri domani, state dietro, anzi state davanti, ho trovato sempre con tutte le raccolte, tutte le informazioni possibili. Siamo di fronte a un muro di Berlino, direi comunque, cioè, veramente una cosa difficile da battere. Ce l'hanno fatta però, no? Da battere i platani? Un muro l'hanno abbattito, noi veniamo per battere i platani, questo sicuramente è il messaggio che io ci sarei a portare oggi qui, nel senso che io ci tengo, come ha detto Enrico, alcune persone si sono lamentate che noi ci stiamo curando solo di questo momento, di questi platani, in realtà non è solo questo quello che stiamo facendo, questa è un'emergenza e bisognava assolutamente lavorarci solo perché tuttora ci stiamo lavorando, perché non siamo fermi, sembrerà stavano ancora ancora, sono qua che stiamo aspettando alcune risposte. e io mi auguro che, vada come vada, comunque questo gruppo non si scioglia qui, ma diventi sempre più grande e sempre più compattivo nei confronti di chi proprio non se ne intende, perché questo è il problema principale, non capisco una matta, ragazzi, una matta non capisco, non si può darci. Allora, parliamo chiaro, cioè ragazzi, un gruppetto è la teretta, stai qua, manco sanno cos'è la teretta, cioè, sembra come che stiamo parlando veramente di proprio persone ignoranti, parliamo che ha detto, questo è il motivo, io adoro la teretta e questo è il motivo, io adoro la teretta e questo è il motivo, io adoro la teretta e questo è il motivo che abbiamo presentato, perché c'è, l'abbiamo presentato, quindi sono in un incontri che abbiamo svolto, sono stati numerosi, l'intimo è stato proprio con l'ingegner Pasali, che è quello che sta sedendo in ciaule, i lavori e Luca Zonotto, che è il Presidente del Consiglio del Comune di Verona e la protesta che abbiamo portato è la tela di paci, che è scontarci, nel senso che noi abbiamo proposto, ma non si può evitare questa maledetta svolta a sinistra, che come potete notare, sono due, ma anche tre che in questo momento cercano di svoltare, è una cosa veramente necessaria o si può escludere? Mettiamo un divieto di svolta, facciamo una valutazione, se questa cosa crea veramente dei disagi sulla circolazione, allora possiamo valutare di abbattere questi agri, ma fatta così, ma non hai ragione, dovete fare una prova prima di darci una possibilità, questo è quello che ti devo ancora adesso al, diciamo, tramite l'ingegnere Pasali, Luca Zonotto, di poter modificare, non abbiamo ancora avuto una risposta, questo però dovremmo dirlo. Adesso Damiano Fermo del PD è andato in Consiglio Comunale, oggi richiedeva nuovamente, aveva promesso, se si poteva seguire qualcosa in merito. Mi auguro, siccome ho detto che sarà un interior Consiglio abbastanza rapido, che possa tornare come una risposta, speriamo che sia alterato in questo Consiglio Comunale perché non si sa mai, ecco. Cosa possiamo dire l'altro? Non so, qualcuno vuole intervenire? Paola? Ecco qua. Paola mi lasci ripetere? Allora mi ripeto che qui c'è la Liberatoria, chi vuole farsi fotografare con un albero abbracciato, è abbracciato da un albero, vuole lasciare la Liberatoria a fare fotografare, solo qualche aspetto. La ragazza che fa le foto è lì, alla vostra sinistra, con la maglietta roda che si chiama Elka. Grazie mille. Paola Paola. Paola, anche tu. Paola Paola, anche io ho partecipato all'incontro con l'assessore e devo dire che l'assessore, la prima volta, ma forse anche la seconda volta, non lo so. Loro ci stanno ad ascoltare ma ci lasciano parlare ma non ascoltano. Perché loro, per loro la partecipazione di cittadini è inesistente. Per cui davanti a una proposta che ha, ragionevole, che francamente costa pochissimo per un diretto di svolta a organizzare meglio la circolazione qui, non costa niente, semmai costa la penale, dicono loro. Ma loro non interessa perché loro alla voce dei cittadini sostituissero la voce dei stati messi. E ci spenderano, statistiche, rilevamenti, fanno le rilevazioni di quanto traffico c'è, poi si informano qual è a livello europeo, come si organizzano le città, il traffico nelle città europee, ma non ascoltano i cittadini di questa zona. Perché cosa vuol dire che loro la partecipazione? Non c'è o non c'è? Allora io vorrei ringraziare i cittadini di questa zona. che hanno, che si sono incontrati per il traffico. Perché io penso che da questo incontro si debba fare andare avanti e fare una specie di pergresso incinerante nelle vari luoghi di cementificazione, dove il nostro comune non ha un piano regolatore, è una cosa che noi siamo dei romantici e pensiamo che ci sia, che loro pensino a quale sviluppo della città, ma non è vero. Loro affidano questo agli investitori, a quelli che chiamano i pay-golders, che chiamano il project financing, che è inesistente a livello europeo, solo qui da noi c'è il project financing. E quindi vuol dire che qui non c'è un'idea di che città, loro non sanno che città vogliono. Sanno solo io che loro devono far fare affari a questi finanziatori. E poi io mi fermo qui perché non voglio entrare in ambiti che riguardano corruzione, imprezione mafiosa, questi di Libera. Ecco io non voglio dire questo. Dico che da questi teatri si deve partire e andare nei vari luoghi dove l'amministrazione ha deciso che c'è di filtrare, sono tanti che a Lerona e andiamo avanti così. Loro ci potrebbero dire, ma voi che proposte fate? Allora io dico, noi non facciamo proposte, non sappiamo che certo che questo non va bene. Quindi uno dei miei strumenti del teatro è quello di dirci, beh tu cosa faresti? io so che questo non lo faccio. Io direi di partire da qui se vogliamo salvare la nostra verona. Allora, la proposta che è stata fatta da questo commentato è già stata realizzata in Corso Milano. In Corso Milano hanno evitato una marea di svolte a sinistra e facendo incavolare la gente e non gli ha importato niente, hanno fatto comunque le rotatorie e ogni certo top c'è la possibilità di cambiare corsia. Perché qui non si può fare, visto che prevista una rotatoria davanti a Porta San Geno? Non è a 2000 anni da qui. Quindi è una cosa che si può fare. Come si fa in altre vie qua vicino a Corso Milano non vedo qui perché non si possa fare. Cosa curiosa, perché dopo anni di natalità zero adesso qui serve una nuova corsia? C'è qualcosa che non funziona, mi pare. E poi dicono che ci sono meno macchine rispetto a prima. Il problema è la macchina, che ce ne sono troppe e che occupano troppo spazio. Gli alberi sono molto più utili delle auto e bisogna cambiare il sistema di trasporto. Il vero trasporto di massa non è la macchina, è il mezzo pubblico che occupa una valenda di spazi meno. Non so se avete visto su Facebook quanto spazio occupano gli autobus rispetto alle macchine per fare i quali persone trasportate. E poi c'è che paga le nuove strade che vengono realizzate. Perché pagano tutte queste nuove strade? Poi bisogna pagare la pulizia in più e tutto il resto. Nuove strade, nuove spese per tasse. Questo è poco ma sicuro. E se i corsi in Milano quando c'è altri lavori, se li facciano anche qua, uguali? Anzi, si velocizzerebbe il traffico? Se li fanno fare tutto in meno in questione invece che qua? La scelta di fare un'assemblea cittadina al posto della rituale classica manifestazione era proprio perché abbiamo pensato che fosse più utile, più interessante, più intelligente di aprire uno spazio di partecipazione, di confronto aperto, pubblico, che non fosse ripetere una serie di slogan ma fosse ripensare insieme alla città. Così abbiamo fatto la prima, tre settimane fa, qua il primo giorno e così abbiamo scelto di farlo oggi. Quindi se ci sono altri interventi, molto volentieri, il microfono è aperto, l'assemblea è cittadina, pubblica. Io credo che ci stendiamo a dire che in realtà questa mobilitazione ha prodotto anche, ci sono tre momenti che si stendono insieme, la difesa degli alberi, la salute dei cittadini e della città e la memoria. Perché questa mobilitazione ha permesso un lungo lavoro, quindi anche Riccardo, se volete due parole, insomma, su quella della memoria di questo luogo e di questa città. Proprio oggi qualcuno postava su Facebook una bellissima foto del 53. Ecco, sì, una meravigliosa del 41, ecco, perché c'è stato il 53 sopra. Del 41 è una bellissima foto dalle piscine, molto bella, che vi invito a vedere, in cui si vengono appunto i placali già alti nel 41. Il lavoro che ha fatto Riccardo Battiferro, insomma, perché abbiamo presentato veramente anche un'istanza, giusto, alla sovraintendente, al comune, all'isili e alla guardia forestale, con tutta la memoria di questo luogo e con la difesa che questo viene considerato patrimonio di Unesco. Perché appunto Verona è una città patrimonio di Unesco dove gli alberi, che poi sono quelli che sono già stati appartiti, erano a ribossa delle mura della città e quindi potevano rientrare, questa è la nostra richiesta, all'interno del patrimonio storico dell'Unesco della città. Quindi insomma è stato fatto anche un grosso lavoro di memoria, di raccolta di informazioni, di documentazione e tutto questo diciamo poi spero riusciremo ad organizzare in un dossier, in un materiale che sarà disponibile perché veramente è un lavoro prezioso per la memoria della città e per appunto diciamo difendere un'altra idea di città. Questo ci tenevo a dirlo perché mi pare abbia importante. Scusa, questo è riferimento al tuo discorso sulla dotatoia. dobbiamo davvero prendere una posizione ferma sulla questione delle dotatoie. Io penso che noi siamo contro delle dotatoie perché delle dotatoie invadono il territorio e la violenza ma in questo caso particolare converete che ci sia abbastanza spazio per fare la dotatoia. Però c'è una contraddizione, adesso mi pare che la mia domanda in sé, ma inizialmente la giustificazione dell'appartimento degli alberi era questo, dal momento che voi siete con le rotatoie, questo non è la stessa situazione al rotatoio. Ma se noi abbiamo esaminato, abbiamo visto che tutto sommato la rotatoia è male o minore, bisogna essere fermi su questo argomento. Vogliamo delle rotatoie o no? È una soluzione o no? Questo è un punto fermo fondamentale. Tutto sommato la rotatoia di portapaglio funziona abbastanza che ormai c'è. All'incrocio di Corsa Milano, in Viale Galliano, c'è tanto spazio per fare una rotatoria. Quindi tutto sommato, se vedete che se il nostro rotatore salva gli alberi, allora possiamo anche, fermamente su questo argomento, che si può anche dire che abbiamo sbagliato. che ha fatto, diciamo, di questo argomento, che è un argomento profondo, ad esempio Damiano accettato, ma pari della giustizia che abbiamo sbagliato, adesso siamo alla parte di plaza, quindi questo è un argomento di rinforzamento che è un argomento di risposta fondamentale a questo punto. Da un punto di vista meramente tecnico è la rotatoria. Quindi questo è un argomento. Poi, sottolineiamo il senso di sottolineare, oppure diciamo di no, perché troviamo altre soluzioni, ma non si può essere così, diciamo, vaghi, in attesa di, possiamo benissimo dire che siamo contro la soglia, ma in questo specifico caso potrete essere un male minore. Grazie. Un affetto culturale? No, tutto. Ci abbiamo presentato noi una proposta tematica, diciamo, proposta, studiata al gioco di parole dall'ingegnere Francesco Vesani, quando abbiamo avuto l'incontro con, diciamo, le forze politiche in comune, perché per amor di verità, per raccontare questa storia per intero, bisogna veramente dire che il Consiglio Comunale ha trovato questo progetto all'unanimità e quindi, diciamo, quando abbiamo avuto l'incontro con il capogruppo, il Consiglio Comunale delle Forze di Mineranza, cioè Gianni Dancerini del Movimento 5 Stelle ha chiesto ufficialmente scusa per una scelta che hanno capito essere stata sbagliata e, diciamo, Michele Bertucco ha detto che ci sono tante, diciamo, delibere, tante decisioni da prendere in comune di fretta e quindi probabilmente c'è stata un'errata valutazione di questa situazione e per cui poi c'è stata, diciamo, un'interlocuzione che però, ripeto, ad oggi purtroppo non ha dato alcun frutto. Qui abbiamo presentato sì una proposta alternativa che impediva la svolta sinistra e che prevedeva una rotatoria all'incrocio di... la possibilità di una rotatoria da valutare all'incrocio di Corso Milano, quindi insomma, voglio dire, è stato un atteggiamento direi assolutamente costruttivo e concreto, mai ideologico, nonostante qualcuno che vi è accusato, ma insomma abbiamo discusso veramente di viabilità anche, mentre di prendere i platani che sono, come abbiamo lanciato in questa mobilizzazione, un bene comune e che non vanno abbattuti. Allora, un buon motivo per tenere in piedi un viale alberato. Nel XIX secolo consideravano il viale alberato segno di civiltà. Nel XIX secolo sapete perché è un segno di civiltà a tenere un viale alberato? Perché il viale alberato fa ombra e così pedoni passano a camminare tranquillamente lungo il bordo strada senza rosolarsi al sole l'estate. Poi si vengono che i negozi della città si uvono. Se noi rendiamo ancora più in ospitali nelle nostre strade, che cosa sperano poi di trovare nel prossimo futuro? I centri commerciali e andremo tutti con l'aria condizionata. Grazie ai cambiamenti climatici che ci rendono l'aria ancora più calda. Se noi rendiamo ancora più in ospitali le nostre città a battaglia e noi alberi, beh, vuol dire che ci vogliamo proprio male pure noi, eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli alberi sono tutti risorse di questa città e se diciamo che non capiamo che in questa città tutti questi discorsi vanno a pari passo non arriveremo da nessuna parte per cui secondo me è importante che quando ci sono questi punti di ritrovo, mi spero, proseguiranno. Ognuno porti la sua esperienza, ognuno porti la sua lotta all'interno di queste battaglie perché sono tutte esattamente collegate e appunto porsi contro questa amministrazione mi sembra fondamentale perché abbiamo visto che si sta sempre dimostrando un'amministrazione in tollerante, non solo dal punto di vista razziale, non solo dal punto di vista umano, in tollerante dal punto di vista di civiltà. Non si ascoltano le persone, non si ascolta l'opinione delle persone e dei cittadini. Questo credo che sia il massimo segno di civiltà. Io vorrei aggiungere purtroppo a questo problema dell'abbattimento, speriamo che riusciamo a fermarlo, l'abbattimento di questi platani. Un altro problema che ancora è in fase progettuale, per questo dobbiamo, anche raccogliendo le critiche che abbiamo ricevuto in questi giorni, dobbiamo cercare di accorci al progetto del cimitero dove vogliono tagliare una fila di alberi per fare la terza corsia. Questo sarebbe, adesso non ricordo il termine esatto, un intervento compensativo per invece il megacentro commerciale di cui hanno raddoppiato di nuovo la superficie commerciale in questi giorni, vedi l'amministrazione intollerante e civile che abbiamo, l'amministrazione metosi, diciamo anche nomi e cognomi. Ecco, questo intervento che cementificherà Bassoquare ha come intervento compensativo fare un'isola, una mezza rotatoria al cimitero che prevede la terza corsia lungo le mura magistrali, quindi l'abbattimento di quella fila di alberi. Allora, per evitare di trovarci lì, con i tifoni, le vandi già e gli alberi tagliati, e se ci muoviamo adesso forse riusciamo a formarli, anche perché è un progetto che prevede lo spavolgimento di, già dal punto di vista anche di abilistico, è stato detto che andrà a discasare completamente tutto, lì dove sapete c'è anche il nuovo parcheggio del gasometro, eccetera. Quindi io propongo cercare di attivarci, per implementare questo tutto il nuovo recensio. Allora, io sono Matteo Dallaia e sono consigliere qui in terza circoscrizione abito in Borgo Milano. Niente, se io riprendo il discorso, visto che non c'è Damiano, è una proposta del PD che ha fatto ammenda a livello di consiglio comunale, in circoscrizione per la verità in questo mandato non è passato niente. Il discorso è che a livello di circoscrizione dove di solito i problemi vengono affrontati tutti da consiglieri che vivono nel territorio a stretto contatto, non c'è stato un vero dibattito su questo intervento, solo una presentazione di un progetto generico. Quindi non si parlava di taglio dei platani, si diceva che si voleva spostare un po' il senatore, sull'incrocio di Corso a Milano sono stati fatti diversi discorsi, anche più strampalati. Alla fine, come spesso succede, è arrivato tutto il consiglio comunale all'ultimo secondo. Diciamo che quindi spero, beh, molti sottorandi di questa amministrazione, cioè non si programma niente, non si dà tempo di discutere per poi dover approvare le cose in fretta e furia. Questo è uno dei casi, un altro caso che vi posso fare ad esempio è quello della Spianà, lì c'è stata fatta una pista da BMX regalando praticamente il vasto terreno a una società sportiva che per carità, non è neanche trovato di sport minori, ma fa 120 tesserati in tutta la provincia, è andato per 30 anni e un pezzo di Spianà se ne è andato senza troppi problemi direttamente approvato in consiglio di circoscrizione perché c'erano i mondiali. Allora, come diceva anche qualcuno prima, qui non viene dato apposta il tempo di discutere le proposte, perché se ci fosse il tempo verrebbero fuori tutte le obiezioni, ma sarebbe molto più difficile fare questo tipo di interventi. Una cosa su cui riflettivo questi giorni è che spesso facciamo fatica a intercettare l'opinione pubblica e l'interesse su quella della programmazione e a livello di bilancio e a livello di opere. In questi giorni adesso Damiano è andato in consiglio comunale, da domani si discute il bilancio, non si discute solo in bilancio ma anche il piano delle opere triennale. Allora io, sicuramente consigliere, voi probabilmente devo andare a leggermi tutte le carte, per i prossimi tre anni hanno programmato un po' i vari interventi che ci dovranno essere. Per i 2018 c'è una penuria totale, salta agli occhi 140 mila euro per un'area di esercitazione cani alla bassona, poi molto po' se non in impianti sportivi e altro. Tutte le opere più importanti sono sempre rinviate negli anni. Io non vi voglio solo sicuro, ma facendo il tesoro dell'esperienza che abbiamo fatto in questi anni, sicuramente succederanno cose simili, che all'ultimo secondo si trovano i soldi per finanziare qualche progetto, viene mandato all'ultimo secondo in consiglio di circoscrizione al direttore in comune e si fa fatica a riuscire ad analizzare i progetti e a modificarli, a fermarli se sono totalmente inadeguati. Quindi io non ho quello che posso fare, perché anche come cittadini dobbiamo cercare anche un po' di interessarci il più possibile anche alle questioni che vengono poste, perché finché sono in base di programmazione non ci possono dire, ah ma sono già finanziati, ma ormai c'è già il progetto definitivo. Mi posso dire che in Filibus non c'è ancora il progetto esecutivo, che sembra già concluso che è un'opera inutile. In particolare su questo progetto una proposta che facciamo è che quella che ha presentato Damiano sull'arena a nome del PD è quella che facendo un nuovo studio sui flussi di traffico si verifichi se questo intervento è veramente risolutivo. Se non lo è, si verifica che si può fare una cosa diversa o si ferma il progetto con vogliare i fondi che sarebbero destinati a rispetto a qualche altro importante intervento nella nostra circoscrizione. Uno di questi potrebbe essere l'acquisto finalmente del parco di Villa Poulet. La cifra che rimarrebbe sarebbe da quello che sappiamo circa 200.000 euro, che è proprio quella che servirebbe ad acquistare finalmente quel parco, perché? Perché era stato promesso già tre anni fa da Giacino, se andate a vedere il piano delle opere e dovrebbe essere per il 2015, quindi chissà quando l'era fatto perché è stato spostato negli anni. Oppure se proprio anche in altre opere è utile, ci sono un sacco di interventi che necessitano di investimenti, però quello sarebbe un segnale importante per il nostro territorio, finalmente di rimanere una questione che si porta avanti da tempo, perché le promesse sono state fatte, proprio quando si tratta di tirare fuori i soldi, si trovano per tanti interventi che poi si vede non sono risolutivi, ma per quelli che sono già liberi, proprio in area verde è già tronta, che viene mantenuta dagli studenti dell'Istituto Gardi, ma ancora non si trovano, quindi vi chiediamo insomma anche di supportare queste battaglie che vengono portate avanti, che non sono battaglie solo del PD ovviamente, sono battaglie di vari collegati trasversali e se siamo in tanti, se siamo presenti, è più facile che incidiamo, perché abbiamo visto che in corsia di cestoscrizione quando c'è interesse poi sono molto più prudenti che sono costretti a discutere, vedete solo che non sono gli svinti di via Campania che hanno trasferito tutti i tuoi ambulatori, perché si vede stato costretto a dato bassi a una mozione che abbiamo presentato, però abbiamo dovuto essere in tanti, fare una bella mobilitazione, sulla posta da BMX purtroppo non eravamo così tanti, per cui anche i difensibili si è reso conto poi che pur se non andava approvato e la frittata è stata fatta, quindi insomma dobbiamo cercare di darci da fare, non è sempre semplice, come hanno detto da parte dell'amministrazione non c'è una grande sensibilità, però servimenti le proposte, se fa il progetto alternativo come è stato fatto in questo caso, alla fine qual'ora si deve sottolineare. Grazie. Buonasera, sono Paola Lorenzetti. Visto che qua si è parlato di soldi per fare delle opere, vi ricordo che alle nostre spalle c'è la piscina comunale che sta andando in marcia, perché non c'è stato nessuno che l'ha presa in gestione quest'anno. È stata lasciata lì con l'acqua dentro, ci sono, mi dicono, vari danni, però chissà quanto tempo resterà lì. Allora io mi chiedo se non è possibile che il Comune la gestisca direttamente dando da lavorare a qualche ragazzo, penso a tanti ragazzi che ci sono qua in zona e potremmo utilizzare una cosa della nostra circostruzione, quindi se non sapete dove mettere i soldi di circostruzione, qui c'è un posto dove ce ne sarebbe molto bisogno. aggiungerei l'ex che da anni è chiusa e sarebbe un parco con dei bambini, con pista, patinante, una volta pallavano lì. Comunque un parco verde disponibile per un quartiere che è preso e che l'ha da anni chiuso, non stanno affidarlo. Perché a quanto mi risulta, c'era un parco, ma è stato per decine di anni, ma i gestori non hanno più tenuto perché costava troppo, chiedono cifre troppo alle. Un posto del sito, un parco in quella posizione con un parco, un assisto di pattinaggio, a ridosso dei bastioni, dei campi di calcio, dei tennis, eccetera, che ha addirittura un teatrino, sarebbe stato magari interessante, invece no. Serve solo a dare le colazioni ai poveracci che non hanno di che mangiare, eccetera, danno un'assistenza. So che alla mattina presto ci sono sempre, hanno dei tendoni e danno la colazione. Però voglio dire, io ci sono cresciuto lì dentro, giocando con gli amici da bambino, ho imparato a pattinare, ma adesso i bambini non sanno neanche più dove andare a pattinare, per esempio. Se non sui marcofini, questi li ammettiamo perché facciano quegli sei, quegli fatti e via dicendo. Buonasera figlio, sono Paolo, ho fatto parte del comitato Pettino e Palazzina da salvare. Purtroppo anche noi siamo vittime di questa politica che si propone come despotica e decide per conto dei cittadini, perché è stata eletta dai cittadini, dicono e quindi devono decidere per noi. Purtroppo anche lì un'area, Pettino-Palazzina, per intenderci è la strada che esce dal Pestrino e si dirige verso Palazzina girando a sinistra. Lì adesso, non so se siete passati, è stata fatta una rotonda e può essere anche bella da vedere la rotonda, ma questa qui è stata creata in funzione come opera di compensazione perché in quell'angolo lì viene costruito un centro commerciale e delle aree edificabili, cioè aree vivibili. Cioè, quindi è stata trasformata un'area agricola di non so quanti metri quadri in un'area commerciale. Allora ho scritto alcuni incontri dentro qui, in cui ha annunciato che la provincia di Verona attualmente è a 150.000 metri quadrati di area commerciale, in cui provincia di Verona quindi San Giovanni, Lupapoto, San Martino, Buonalbergo, eccetera. Verona non ne ha. In questi due anni futuri il progetto è quello di diventare a 450.000 metri quadrati, quindi triplicare solo a Verona, nella città di Verona, l'area commerciale. Ecco, e poi ci tagliano gli alberi in centro. Quindi, allora, ci sono alcune zone che verranno riqualificate come le officine bra che c'è in via Viale del Lavoro, Viale delle Nazioni. Ma altre aree, come quella del comitato a cui appartengo, quindi Pestrino Palazzina, lì era un'area agricola che è stata soffratta a quel bel terreno che c'era di canti vicini, tra l'altro all'Adige, per costruirci, e dovremmo costruire, un centro commerciale che non servirà a niente, se non a spostare, perché si dirà per i posti di lavoro, si sposteranno i posti di lavoro per un attimo del centro commerciale e verranno chiuse altri centri commerciali. Quindi, non ha significato. Quello che voglio dire è che l'arroganza di questa politica, e l'ho visto perché abbiamo avuto tante porte chiuse ovunque, un'area di tronchiaggi in forma di cacchini, e ci hanno sempre chiuso le porte in faccia, come ha detto prima Paola, il sezzano, e non ci ascoltano assolutamente, noi comunque continueremo a parte, facciamo anche noi delle manifestazioni, ne abbiamo fatte una, speriamo comunque di passare la voce e di rinunirsi perché in pochi si fa poco, ma insieme si può fare di più. Grazie. Grazie. Ecco, allora io vorrei riagganciarmi a quanto detto, io abito a Madonna di Campania e noi siamo i prossimi, nel senso che non so quanti di voi sanno che c'è in progetto un centro commerciale, la Cercola, proprio, sì, il territorio di Verona, quando si riesce per andare verso Vicenza, cioè poco prima delle porti Venete, il territorio, proprio il Lidl, per intenderci, tutta quell'area di Campania sparirà. Ho preso un aggetto che è rinaturalizzato e che dovrebbero riempire i nerni, va bene, un progetto bolle che prevede anche un'alterazione delle modifiche, la viabilità, vie interne che non sono assolutamente in grado di sopportare il carico di traffico. Sì, ok, si può decidere. Allora, la proposta è quella di creare un unico comitato, perché, allora, è importante essere qua, ma siamo qua, sono importanti platani, Pestrino-Palazzino purtroppo i lavori sono iniziati nonostante il loro impegno, siamo pronti piccoli comitati, ci vuole un'unica grande forza e che faccia azioni importanti, evidenti, perché noi parliamo dell'interesse nostro, dei cittadini, della nostra salute e dei figli, dei nipoti, ma alla nostra amministrazione non importa assolutamente niente, siamo chiari, quindi bisogna veramente trovare delle forme di lotta, delle altre strade e bisogna assolutamente essere informati e documentati, perché nel mio quartiere del centro commerciale della Cercola, pochi sanno, quei pochi che sanno sono convinti che finita l'epoca Giacino anche il centro commerciale sia caduto. Non è vero, stanno andando avanti e succederà, come dicevano prima, che all'ultimo momento ci sarà già pronto il progetto autotipo, non ci sarà più nulla da fare, quindi bisogna muoversi e bisogna fare presto. Ciao a tutti, sono Francesco Premi, abito in Puntrencano, una delle zone che ad oggi è stata sempre risparmiata dalle politiche non urbanistiche di questa amministrazione, che però due grandi, ha una spada di Diamo, quella che è quella del Traforo, sappiamo tutti e altre due belle notizie che sono arrivate la settimana scorsa, una è, visto che parlavamo di appartamenti spiti a Verona, 140 appartamenti in programma a Quintano, dopo già la bella opera che è stata fatta qualche anno fa dei quattro condomini sotto San Rocchetto e qua c'è una, credo una delibera, adesso dovrei controllare, ma comunque dovrebbe essere una delibera di giunta già confermata, già approvata e la seconda è un piano, anche qua approvato in consiglio di circoscrizione per la riquadificazione della piazza di Ponte Crencano, che non esiste ad oggi, che parte da presupposti giusti, cioè creare una piazza per un quartiere e arriva ai soliti risultati per cui per fare la piazza tagliamo gli altri degli appiedi di calore perché bisogna farci dei parcheggi. Allora, secondo me sono stupo di queste cose qua, perché ne ho finito sopra e credo che se Platani hanno un unico merito prima di, vedremo quella che era loro sordi, sia stata quella di scoperchiare a Verona tutta una serie di cose che erano rimaste nascoste, semi nascoste o comunque mai capricicciate veramente. Adesso se noi abbiamo la possibilità, come hanno detto in tanti, di mettere insieme i vari comitati che nel loro settore sono dei comitati di esperti, non facciamoci credere a prendersi in giro e a chi scrive, i comitati sono tutti contro e tutti i comitati sono divisi, i comitati sono costituiti da persone che nel loro ambito sanno molto di più di quello che tutti noi possiamo sapere da soli e che in comune sanno. Quindi da TIA alle prossime elezioni costruiamo qualcosa, ogni comitato dica la sua sul suo, ci sarà una strategia che è unica, che è quella che tutti i comitati vogliono portare avanti, che è quella della salvaguardia dei beni pubblici, anzi dei beni comuni, non dei beni pubblici. I beni pubblici sono quelli che appartengono al comune, i beni comuni sono quelli che appartengono a tutti noi. E chi dice che non si può fare? Vada a vedere come è successo all'Aquila, 5 giorni fa la città ha firmato un documento con i cittadini per fare delle scelte condivise su tutte queste questioni strategiche. Strategica non vuol dire solo la mobilità, la mobilità è una delle cose che bisogna pensare, bisogna pensare agli spazi, perché mobilità vuol dire spazi e persone. Allora davvero non posso pensare che tutta la politica di una città che cira attorno a 4 case nuove, a 500 commerciali nuovi e a 3 strade da fare, che c'è una città da mandare avanti per i prossimi 20, 30 anni, 50 anni, 50 anni. E allora se non si sa, se non riesci a capire che qua il problema non viene risolto da una corsia, ma viene risolto ad esempio da una circolare di Pullman che passino da Porta Vescovo e facciano tutto il giro come in tutte le città del mondo evoluto, va bene, perché qua non c'è un adubus che passi su questa circonvallazione, non c'è un adubus che passa il giro a Farona o a Torale. Allora cominciamo da queste robe, non serve spendere i soldi per una tramvia, vado ad aggiungere 5 autobus a metano, mettiamoci insieme, facciamo dei platani, perlomeno se poco non serviranno più. di patenza per tuttavia qualcosa di te insieme che possa arrivare ad una proposta condivisa tra Tanti e Verona, grazie. una volta la circolare qui c'era, una volta c'era la circolare qui, l'anno aperta, quindi dobbiamo usare la macchina di strada e di affari e di spese per noi, a quello il tutto il discorso. Infatti c'era la circolare, certo che c'era, e sapete che adesso vogliono il sabato, se gli suoni vogliono fare la settimana breve a Verona, che adesso vogliono tagliare prima di pubblici il sabato, fino a fine, dai da anni che ci trovano. Allora io ringrazio gli interventi e bellissima idea di fare questa assemblea cittadina, allora io proporrei ai comitati che hanno parlato, a Paolo e poi anche a Paracetina e a voi per conseguenza, di organizzare, quindi voi dovete farlo voi, il tutto insomma, dove andare, che potete fare, poi ci scrivete e facciamo proprio queste manifestazioni itineranti per la facciamolo perché, come dicevi tu, la gente non lo sa, ma la gente non lo sa, quindi noi ci organizziamo e noi impugniamo agli stampoli un bello stock di tela, i colori li abbiamo e facciamolo da zero, adesso non sa bene chi è, si può essere il dito della segreteria mobile, ma facciamolo in questo posto di quello che hai parlato voi. Grazie. Come noi abbiamo fatto attraverso Facebook? Una pagina per coperti i comunicati, in modo che andiamo lì a venerdì appuntamenti e ci scappiamo, bisogna creare questa cosa qui, oltre a dirci andiamo là, perché se vogliamo intervenire prima che avvengano le cose, è sempre più, è chiaro. Allora, sono assolutamente d'accordo con gli interventi precedenti, non voglio rispettarvi, una proposta per questo luogo e per i clandali, oggi noi vediamo come sia importante avere degli spazi anche minimi, come questo grande marciapiede, dove le persone però possono fermarsi, parlare e rimanere. Per i nostri amministratori invece, evidentemente, tutto questo è assolutamente inutile, anzi è fastidioso. Siccome sono importanti gli alberi, possono spostare all'ombra, qui bisognerebbe rendere evidente che gli alberi di uno spazio come questo cambia la qualità della vita delle persone. Una proposta potrebbe essere quella, qui oltre ai manifesti di striscioni, anche rispondendo, insomma, ironicamente, ma anche in maniera simpatica a quell'intervento che c'è stato di Silvino Gonzatto sull'arena, mettere dei cavoli, delle sedie, delle panchine, creare un luogo intorno agli alberi dove ci si possa anche fermare, per dimostrare che questo è uno spazio che ha un senso, che può essere usato, che gli alberi hanno significato proprio per cambiare il modo di stare insieme. Un'altra cosa vorrei aggiungere a quello che è stato detto dai rappresentanti dei vari comitati, poche sere fatti, se non è, c'è stata la presentazione del nuovo intervento, purtroppo non è nuovo, dell'intervento alla Passalacqua. Proprio per ribadire quello che è stato qui detto. Alla Passalacqua il primo intervento che ha fatto l'amministrazione per creare quello che adesso vantano come il primo parco d'Europa, che non è vero, è stato di tagliare 200 alberi secolari. Questo per capire come ragionano, come si muovono. Oggi ci raccontano la favola che lì appunto si farà un parco. Le persone ci credono, ma la cosa grave è che non solo l'amministrazione viene venduta in questa maniera, quello che in realtà è un più grande intervento immobiliare, che è una speculazione immobiliare, perché anche la Passalacqua avranno costruiti 140 appartamenti. Vuol dire che dentro, al quartiere di Veroneta, nascerà un altro quartiere, un posto dove c'è già troppo cemento, troppo traffico, troppo inquinamento. Questo cosiddetto parco della Passalacqua sarà attraversato da una strada larga a due corsie che collegherà la zona dell'università alla circonvallazione. Allora ditemi voi se un parco ha un senso quando tu dentro ci costruisci una strada. E comunque consorgeranno una decina di condomini, 140 appartamenti vuol dire molto contrazione, traffico, eccetera, eccetera. La parte del Stato è realizzata, però è una zona residuale rispetto a tutto questo che è un vero punto di interesse dell'amministrazione. Quello che è grave però è che l'incontro era organizzato dal PD del centro storico. Allora ci chiedo, come è il tuo obiettivo, per gestare le posizioni, perché contrastare un progetto del genere può dire ai componenti, ma in realtà l'ho offerto agli speculatori, cioè a quelli che costruiranno, lì c'erano le vite, che costruiranno la Passalacqua, c'erano quelli che hanno tagliato i duecento alberi. Ecco, gli ho offerto una decina per raccontare questa favola sul grande parco della situazione della Passalacqua. Per cui credo che il nostro impegno debba essere per questo ancora molto più forte e radicale, perché non solo abbiamo di fronte un'amministrazione ottusa come questa, che si muove solo seguendo degli interessi particolari e minimi. Già Cino si è venduto dei tempi di città, cioè non è soltanto quello che si è messo in tasca, 600 mila Euro, il video ha programmato per mettersi in tasca, lui e sua moglie, 1 milione, 200 mila Euro. Ma in realtà l'oggetto della trattativa, erano tutte queste zone che ci hanno parlato, erano zone agricole e che le hanno fatte diventare zone dedicabili dove costruiranno. Allora, questa è l'amministrazione di Verona, però anche chi dovrebbe fare opposizione, contrastare questo tipo di progetti, non lo fa. Quando i progetti esistono, si trassegna a quello che c'è, così come è stato per i claudari, che siccome la strada si doveva allargare, allora proponiamo 150 serenze come risarcimento, che non si è fallato in altre zone. Quindi è assolutamente utile, anzi a questo punto sicuramente è necessario che i comitati si pensino più forti, che le cose che diciamo possano avere soprattutto dei veicoli di comunicazione più forti che arrivino alle persone, che si riesca davvero a demistificare tutto quello che ci viene raccontato. Se vedete che una rete si è già creata più spontaneamente, io credo che se noi continuassimo queste azioni, assumendo quella dei platani come, come dire, un luogo anche ideale, credo che non faremmo male, cioè da qualche punto dobbiamo pure partire. Io che parlo, modestamente, sono testimone della difficoltà poi di mettere in rete i vari comitati. Personalmente ho compito grandissimi sforzi per farlo e credo anche in parte che siano stati confrontati, non per merito mio, ma per la gravità dei problemi che sono oramai presenti e che si presenteranno. Quindi io credo che questo è il luogo che noi dobbiamo presidiare e difendere. Per lo specifico della questione, come ci diceva Francesca, è perché questo diventa un luogo di confronto e di informazione. Io credo che ognuno di noi che è qui potrebbe raccontare una storia particolare. Nel mio piccolo potrei raccontarvi le ultime sull'Arsenale, mandare la parola alle persone attive nel Comitato, potrei parlarvi di Traforo, potrei parlarvi di Pazzalacqua, ora insomma, qualsiasi cosa rispettava attivo io cerco di informarmi. Cioè noi faremmo bene fare altre tante, cioè alcune persone più consapevoli, più difficili, 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 riescono a fare questa operazione di ricucitura tra le persone, senza aspettare, voglio dire, lunghe programmazioni. Ma fin da adesso attivarsi, perché questo accada. E io credo che accada anche se ci diamo informazioni capitali e veloci nei luoghi tradizionali, non è quello che dobbiamo andare in cerca di tante cose sufficiente. Possiamo benissimo affidarsi anche a una sorta di tantà. Certo, qualcuno di noi deve fare di più questo lì. Questo ci dice perché stiamo di fronte a un'amministrazione. Una gente molto generosamente usa la parola ottusa. Io passerei a parole molto più pesanti, molto più pesanti. La vicenda Giacino è lì a dirci come poi, al di là della carcerazione che non auguriamo a nessuno, almeno a lui. Però voglio dire, è una vicenda che finirà in nulla. Lui lo sappiamo, basta avere un buon avvocato e tutto si risolve, purtroppo. Allora è qualcos'altro che ci salva, qualcos'altro che salva questa città. E noi, a partire dal nostro spinto, dalla nostra capacità di trasmetterle informazioni e anche di interessarci vicenderiamente. Ognuno ha un problema dell'altro. Senza considerare, come dire, quello che c'è sotto il caso come il più importante. Tutte le cose, insomma, come il quotidiano, come il glasani, come è stato insinuato oggi, non sono meno nobili, ma più nobili quelli giusti di tutti gli altri, altri della Piana. Volevi dire qualcosa che ho. Allora, visto che chi dice che bisogna organizzarsi, bisogna scegliere come. Scegliamo una pagina su Facebook oppure Google Groups. Bisogna pensarci queste cose. Se non adesso, bisogna pensarci. Io su Facebook ho decisamente più esperienza, però Google Groups potrebbe andare meglio. Io penso che Google Groups non sia tanto diverso. In ogni pagina c'è la possibilità di scegliere chi fa l'inserzionista. E non è necessario che ci sia una persona che si occupi di tutti, vero? Perché stiamo veramente all'età della pietra, se pensate a una cosa di questo genere. E nei social network c'è la possibilità, da parte dell'amministratore, di permettere come una porta di re di dare delle investiture a una serie di persone. E queste persone, indipendentemente, possono mettere informazioni su questa unica pagina e le possono mettere anche i loro eretti. E' da molto più facile rispetto una volta. Non basta una persona sola. Basta una piattaforma. E di questa piattaforma tutti possono collaborare. E non ognuna di prima deve sentire non carichi questo e quell'altro. No, ognuna può mettere le sue cose. Così veramente in carico reale si possono avere informazioni. Il gruppo è di qua, il gruppo è di qua. La segno di veri cominciano a parlare di televisione, di informazione e allora cominciano anche loro a muovere il mondo pieno. Dobbiamo far vedere che siamo veramente interessati. Ma se no, se no, se no avanti. Allora, adesso l'immagino tra Facebook e Google Groups non mi appassiona personalmente però questa diciamo è una mia cosa. E intanto diciamo che su Facebook c'è il gruppo Salviamo gli Alvoli di Viale Galliano, c'è una pagina Salviamo i Padri. Poi però giustamente ci sono tantissime altre pagine e gruppi per tutte le situazioni come questa che si danno a Verona. Allora, io ripeto chiaramente l'invito che ho fatto all'inizio di venire sabato l'ora 19 alla Croce Bianca, alla Rotorza della Croce Bianca, alla festa di Radio Popolare dove ci sarà un dibattito che si intitola Verona e la città dei comitati per provare a mettere insieme questa esperienza qua. Sarà anche un luogo diciamo un po' più tranquillo dove magari possiamo far girare un foglio e ancora raccogliere le mail, fare una mailing list e ragionare diciamo su come organizzarci anche perché forse è arrivato il momento un po' di organizzarci di più. Quindi questa è la prima proposta, quindi sabato alle 19 alla Croce Bianca alla festa, al Popolare Summer Festival. C'è anche il concerto la sera quindi insomma ci divertiamo. No, no, c'è il bar con i panini. Cristina. Da oggi a sabato? Da oggi? Beh, da oggi a sabato è oggi lunedì, da oggi a sabato ci sono proposte però insomma credo che... Un altro appuntamento a qui a palestino. Ciao a palestino. Ciao a palestino. Ecco però una cosa ci tenevo a condividerla con tutti voi. Questa credo che sia la prima volta in cui ci si ritrova almeno che io abbia fatto esperienza. Non ci sono stati i filmi formali, cioè non ho chiamato io ne ho messo nessun altro a parte il giro di me in basso e spontaneo che c'è stato. Ma perché si è venuta diciamo da San Michele, Paolo dalla Balantina in qualche modo per mettere insieme tutta questa esperienza e questo credo che sia già un grande risultato insomma. L'idea forse dell'Assemblea Cittadina è proprio questa. Poi se ci sono delle proposte operative? Ma io preferirei di fare il baretto della Olga qui giovedì se siete liberi a quest'ora ci portiamo le carreghine e magari qualcosa da bere e continuiamo a parlare e a beversi e cercare di coordinarci. Non so se può essere. comitati che possono salvarci da questa Palude che sta diventando fango se non facciamo attenzione Palude diventa fango quindi non abbiamo altri strumenti abbiamo solo comitati 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 di amministrazione sono comitati che intuiscono che intuiscono per loro natura prima del tempo quello che sta succedendo questa amministrazione non è più in grado di gestire la città indipendentemente dal fatto di corruzione non corruzione comunque anche se fosse più distanti sono stati che non sono strumenti di capire cosa sta succedendo nella seconda decada del ventunesimo secolo non si possono più tagliare gli alberi alberi non fanno tagliati fanno mantenuti perché aumentano il scaldamento del contagente provano la barriera acustica distruggono la semestria del viale questa è la parte integrante del centro storico che è una cerniera di leggi 10 minuti in atto c'è il parco più grande ma un po' più grande grande progetto che si chiama il Svierat la Svierat non è un parco è un bosco un bosco per il Svierat urbano che fa parte di un corridoio verde che parte dal Svierat e finisce a Genova è penitenziale si cominciano a tagliare gli alberi alla Svierat è la fine è la fine quindi bisognerebbe veramente lavorare sui comitati perché i comitati sono la salvezza nostra la città è il futuro grazie velocemente Enrico potresti dire 5 minuti grazie che una nostra grande capacità è stata quella di riuscire ad essere sempre inaltanti cioè un futuro che ci permettesse di confrontarci trovarci scappiarci le idee andare a confronto con come dire le forze politiche il comune eccetera eccetera non vorrei che però questa la restituisco come interrogativo aumentando il numero degli incontri poi non ci si trova in pochi perché quello diciamo perché poi ognuno ha i propri problemi i propri impegni la propria vita giustamente e quindi insomma il rischio di trovarsi in pochi poi ci si remoralizza e si pensa che in qualche modo quindi insomma valutare ecco che magari c'è una volta cercare di fare troppi incontri e il rischio è col male di trovarsi in pochi a un certo punto avere la sensazione che si è in pochi mentre in pochi non siamo tutto qua insomma quindi se abbiamo due appuntamenti sia mercoledì sia diciamo sabato come luogo di discussione più aperto eccetera però ecco se invece c'è un gruppo cospicuo di persone che si vuole trovare qui giovedì o mercoledì giovedì va benissimo insomma assolutamente in più ma semplicemente quello di procedere in modo come dire condiviso e sapiente questo sarebbe da aspettare a sentire cosa dice Damiano dal chiedere che è stato l'obiettante